l'ultima parte il giovedì c'è e poi c'è Coach Factor con François Salvagni. Ciao François. Ciao Marco. Ciao anche Alvaro. Ho visto l'esordio del mio giovane partner giovedì scorso, sono stato molto orgoglioso, piccoli aleatori crescono, quindi Ciro è stato bravissimo, ho visto che ha fatto dei picchi d'audience e quindi sono molto orgoglioso. Hai visto che anche risposto a una domanda ha risposto assolutamente sì, quindi vuol dire che ha proprio imparato bene da te. Sì, ormai questo è una gang anche su YouTube, ormai tutti mi prendono in giro perché continuo a ripetere di continuo assolutamente sì, però evidentemente sto invecchiando. Sai che c'è una domanda che potremmo fare proprio a François, fatta dagli ascoltatori, quella di Matteo, Matteo, scusate ormai la fa i loni? Ecco, ci chiede se gli allenatori c'entrano col mercato o no. Qui la risposta è dipendente. Benvenuto a François. No, no, noi di Coach Factor portiamo avanti una battaglia contro il dipende, quindi noi non possiamo mai rispondere con dipende e quindi non risponderò così. Ci sono situazioni come la mia in cui la mia società mi ha dato i soldi da spendere, mi ha detto spendeli come vuoi e ho comprato tutti e 12 giocatori senza dover rendere conto, lo farò a fine anno se avrò ottenuto risultati o meno. Ci sono altre situazioni in cui la società, il presidente, insomma, è un pochino più, mette più in gerenza, insomma, entra più dal vivo, a volte anche con grande competenza e a volte come, per rispondere anche all'ascoltatore di prima, come Sirci con grandissima passione e a volte magari facendo un pochino di confusione. Però in tutto questo io credo che la cosa più difficile è capire chi fa cosa e chi risponde di che cosa, perché il problema è che quando qualcuno prende delle decisioni alla fine non sono mai le sue e questo è un po' un problema con i direttori sportivi e con i presidenti. Se alla fine il mio presidente è molto oneroso, compra grandissimi giocatori, io ne sono orgogliosissimo, dopo se questi giocatori o non rientrano nel quadro tattico della squadra o non rendono come tutti ci aspettiamo, è troppo facile fare uno più uno, non rendono solitamente per colpa degli allenatori o gli attaccanti non rendono per colpa dei palleggiatori, mai per colpa di chi li ha comprati. Quindi insomma la risposta Matteo è un po' io mi faccio la squadra e ne rispondo al cento per cento. L'anno scorso ho comprato un posto quattro che non piaceva alla mia società per qualità tecnica, mi ha detto chiaramente fai come ti pare, è stato uno dei migliori giocatori del campionato, quindi sono stato bravo. Magari quest'anno ho dovuto stravolgere alcune situazioni, magari sarò meno bravo e alla fine dell'anno ne risponderò. Quando i presidenti nel mio passato hanno comprato e hanno sbagliato gli acquisti è sempre stato chiaramente colpa mia, quindi questo forse è il tassello che manca ed è difficile anche da comunicare. Anche perché il presidente no. Sì, sì, delle volte sarebbero secondo me dei generali direttori sportivi, ma la cosa difficile è far passare il messaggio che non c'è cattiveria in questa affermazione, nel senso che un allenatore non rende come ci si aspetta, un direttore sportivo in certi club italiani soprattutto gestiscono l'80% del mercato, addirittura abbiamo squadre che fanno prima la squadra e poi prendono l'allenatore e non c'è nulla di scandaloso, perché comunque i soldi sono veri, sono della società. A quel punto però se un direttore sportivo sbaglia il mercato per più anni, forse anche lui dovrebbe rispondere come facciamo noi allenatori, che addirittura rispondiamo dopo 3-4 partite, insomma, quindi in tempi molto ben ristretti. Avrei qualche idea di qualche direttore sportivo italiano? Anch'io, però... Intanto, grande analisa che dice, non condivido cosa ha detto Mauro sul vostro tono, perché ad esempio avrei rincarato la dose parlando di eccetera eccetera, non siamo qui a parlare del mercato di Perugia, però ecco, almeno ci fa piacere che magari non ce ne siamo accorti, ragazzi, magari in realtà eravamo lì che diciamo, no ragazzi, Perugia ha preso Giannelli, no, però mi sembra aver capito orientativamente di no. Volley di Volley e Coach Factor presentano, come sempre, tu giovedì e PCCF, oggi François ci parla di? Oggi parliamo delle tattiche di battuta ed è un argomento molto molto interessante, banalmente potremmo dire la scelta migliore batte sul giocatore peggiore, il ricettore peggiore, questo è diciamo una delle scelte più facili da fare, però la domanda per esempio può essere, ma se il tuo giocatore in battuta, non so, batte molto bene in 5 e l'altro giocatore in zona 1, scegli di usare la tua miglior battuta o di cercare il peggior ricettore? Ho fatto questa domanda a uno dei migliori allenatori d'Europa, Alberto Giuliani, lui mi ha risposto, beh è facile, la miglior battuta sul peggior ricettore e questa potrebbe essere un pescavotaggio, però scherzi a parte ci sono tantissime correlazioni, la prima è la più banale, appunto il ricettore più scarso, detto questo però può essere che o non è la miglior battuta oppure su quella ricezione magari cosa fa il paleggiatore, quindi esiste una correlazione tra la ricezione e le scelte del paleggiatore, se per esempio quel ricettore riceve una palla di un certo tipo e di conseguenza la nostra alzata va sempre ad un attaccante migliore, potrebbe non essere la miglior scelta, meglio forse un'altra scelta che costringe il paleggiatore per esempio a palleggiare il giocatore meno forte, oppure ci sono proprio dei sistemi ancora più complessi che adesso piano piano andiamo ad analizzare, il primo è appunto noi vogliamo condizionare il paleggiatore per fare delle cose e quindi di conseguenza prepariamo il nostro muro e la nostra difesa per opporsi, non so, una battuta in uno, il paleggiatore paleggia sempre in quattro, quindi anche se in zona uno c'è un ottimo ricettore... Andiamo a costringere un po' la scelta, più sulla scelta del paleggiatore che sul... Magari in quattro, in quel momento non c'è l'attaccante peggiore. Mi ha fatto molto ridere un'intervista a Ettore Guidetti in cui gli chiedevano qual è la tattica per battere Conegliano, gliel'hanno fatta prima della finale di Cebio e lui era detto battere facilissimo in modo tale che Wolos per divertirsi smette di paleggiare Golu e utilizza tutti gli altri attaccanti. Anche questa poteva essere una tattica, non so se il Cugilo l'ha presa in considerazione o meno, però insomma tornando a essere seri, per esempio nella puntata di Coach Factor che abbiamo presentato sabato abbiamo scoperto alcune strane correlazioni, non so, giocatori che se ricevono una battuta che viene da cinque attaccano meglio, se ricevono una battuta che viene da uno attaccano peggio. Questo è un dato un po' più sofisticato, però è chiaro che ad altissimo livello anche questo è molto interessante. Palleggiatori, per esempio, se batto corto non palleggiano mai al centrale e quindi hai una scelta in meno, o perché la qualità della ricezione del centrale non è buona, ma anche perché tatticamente sceglie di aprire la rete. O anzi ci sono molti palleggiatori che proprio dicono, ah tu batti corto perché non vuoi che alzo al centrale, alzo sempre al centrale. Sono cose che noi studiamo e che sappiamo, quindi batto corto e salto sul centrale. E poi dopo ci sono ancora situazioni molto più complesse, per esempio abbiamo la necessità di togliere una parte della rete. E a me è successo che, non so, nella mia finale di quest'anno, se battevo in zona 1 non attaccavano mai la pipe e il giocatore di pipe era il giocatore più forte di quella squadra e quindi abbiamo battuto in zona 1 semplicemente per togliere la pipe. In altre situazioni abbiamo visto che se battevamo corto non giocavano mai l'incrocio, visto che era un'altra palla, come la famosa P1 di Egonu, che a noi dava molto fastidio, abbiamo battuto corto in quelle situazioni. Quindi è un argomento molto molto ampio. L'importante è che si sappiano tutte queste cose e poi dopo mi è stato chiesto, ma alla fine usare la tua miglior battuta, dove cade cade, è una soluzione? Assolutamente sì, però... Finalmente? Meno male. No, nel senso che alla fine le cose semplici pagano sempre, no? C'è un teorema dell'FBI che dice che il 98% delle volte è la risposta più semplice quella vera. Quindi alla fine, no, muore Madonna, è stato il marito. In questo caso la battuta migliore fa sempre danni. Però è anche vero che quando arrivi a delle differenze molto piccole, abbiamo visto appunto la finale di Champions League oppure il campionato maschile, dove ci sono dei dettagli molto importanti, se con una palla posso togliere una PAI, posso togliere un primo tempo nel femminile, posso togliere una fast, posso togliere una quick, è chiaro che questo mi facilita tantissimo il compito. E quindi diciamo ci può essere anche qualcosa in più oppure un piano B. Delle volte succede, e credo che succede a tutti, anche nelle categorie inferiori, che quel giorno il ricettore peggiore riceve bene o che quel giorno la tua squadra, non si sa perché, piano piano non riescerà a battere lì. Ci sono partite in cui se vai a vedere tutti i battono sul libero. Io non penso che l'abbiano preparata, penso che quel giorno è andata così. Allora perché non sfruttare una battuta corta, perché non provare a fare cose in cui magari proviamo a cambiare, cambio palla avversario. L'importante è come ci stai insegnando, come ci hai insegnati tutte queste puntate, insomma che ogni cosa venga fatta per scelta, ecco, non completamente a caso e anche se viene fatta a caso che sia una scelta. Cioè faccio una battuta migliore come va, va, che vada poi in quel modo. Ecco, poi che non si faccia a prescindere solo battuta, magari forzata sul peggior ricettore, magari complica un po' le cose, magari non basarsi, immagino, su quello che si è visto in qualche video, se poi in quel giorno va tutto diversamente, il ricettore migliore sta ricevendo male. Insomma, di non focalizzarsi come se fosse una scaramanzia, ecco, su quello che si è deciso. Ma assolutamente sì, tutto questo chiede tantissime informazioni, ma prima di tutto, e questo lo sostengo da sempre, dobbiamo avere molte informazioni sulla nostra squadra. Io ho alcuni giocatori che battono molto meglio in uno rispetto che in cinque, anche se in quel momento il ricettore è peggiore in cinque, molte volte per cercare cinque o la palla esce, o la palla è talmente facile che la riceverebbe chiunque, e in più la palla che viene da cinque è sempre la palla più facile da gestire per i nostri alzatori, e quindi delle volte è meglio battere sul libero, però con una battuta molto molto importante, o altre situazioni di questo tipo. Di sicuro una cosa che dobbiamo migliorare noi del femminile è la battuta in salto, ormai ci sono tantissime giocatrici che hanno tantissima qualità in questo fondamentale, però per esempio nei maschi c'è la capacità di battere per esempio a destra del giocatore di posto uno, anche con una battuta forte e anche con una battuta in salto. Nel femminile siamo arrivati a dividere il campo in due parti, quindi probabilmente l'evoluzione anche nostra del femminile è arrivare alla miglior battuta in zona 1, la miglior battuta in zona 6, la miglior battuta nelle zone di conflitto, perché ancora nel femminile questa battuta in salto è un pochino lasciata un po' alla potenza del colpo. Ci arriva una domanda da Stefano. Scusate, ho quello del ritardo. Vorrei farti una velocissima, François. Quanto conversario c'è per capire poi come, cioè che campione vai a prendere? Allora, solitamente più di tanto non si può fare. Io credo che il minimo siano cinque gare e poi ci sono però delle caratteristiche che sono quelle, no? E non so, ci sono giocatori che se ricevono attaccano meglio. Io avevo Chiara Di Julio che quando riceveva attaccava meglio. Quindi lei entrava in partita e aveva ritmo. Nisetic, il futuro giocatore di Trento, è un giocatore che quest'anno addirittura riceveva due. Se riceveva attaccava meglio. Poi lei se riceve interno attacca diagonale, se riceve esterno attacca parallela. Sono tutte informazioni che devi avere. Però c'è un giocatore che se iniziano a ricevere smettono di attaccare. E quindi sono informazioni che sono abbastanza generali. Poi è chiaro, quello che succede nelle ultime cinque partite solitamente è una tendenza e molte volte, è una cosa da spiegare ai nostri giocatori, esiste un'importanza a correlazione fisico di quel giocatore. Perché molte volte quando prepari la partita dici, non so, Samuele Papi riceve male, ti guardano come se bestemmiassi in chiesa. Probabilmente uno vuol dire, nelle ultime tre partite ha avuto un problema fisico, è un calo di forma, è in un momento particolare. Anche lui, certo che non possiamo metterlo in discussione. Oppure ci sono giocatori che hanno sempre ricevuto male, sono in un periodo di grande condizione atletica e la gestiscono molto meglio. Quindi magari dire che quel giocatore sta ricevendo bene, anche qui non è che non siamo a conoscenza di. Va spiegato, abbiamo visto l'ultimo periodo, questa è la tendenza. Poi è chiaro, la partita, un sette e mezzo, devi essere pronto sempre avere il piano B e forse anche il C a volte. François è in combutta con tutti i procuratori, gli scrive Ciro. Per quello, infatti mai di tutte le risposte dell'allenatore a potere mercato che la risposta fosse sì, oppure come la mia che ha detto, tieni, vai e spendi i soldi. Io sono un immigrato, quindi alla fine rispondo solo a Macron. Non so se mai tornerò nel bel paese, quindi se ci dovessi tornare dovrei riallacciare qualche rapporto. Ci chiedono se hai scritto, oltre che il libro allenatore vincente, anche un fumetto come Giannelli, se ci hai pensato magari la tattica per i giovani allenatori. Assolutamente no, però ho mia figlia, che non so se impalla la telecamera, ma mia figlia ama dipingere, quindi adesso è il periodo manga e quindi tutti i giorni dipinge una manga, quindi gli potrei chiedere, visto che manga e pallavolo sono molto vicini, un fumetto sulla pallavolo, ecco. Ti saluta Feliciano e ti riporto una domanda di Stefano, non tanto sulla tattica di battuta, a quanto sulle situazioni che magari in qualche contesto si è visto. Se notate, l'Olanda di Piazza va a questa combinazione palleggiatore a posto in P4, dove entra Nimir, che abbiamo visto anche a palleggiare, oltre che fare l'opposto, in prima linea, e il secondo palleggiatore in P1. Poi rimane Nimir in P1, battere e palleggiare allo stesso tempo con due posti in campo. Spero che sia spiegato. Direi che ci arrivo quasi anch'io, quindi François, direi che anche forse se non hai visto giocare l'Olanda maschile ce la farai egregiamente. Piazza è un allenatore che seguo molto perché negli ultimi tre anni è quello che tatticamente ha fatto più cose particolari e l'abbiamo intervistato. Anche Milano quest'anno. Vorrei una cosa su questa domanda, io non sopporto quando si toglie il palleggiatore dal campo per alzare il muro e non si mette il secondo palleggiatore ed è collegato un po' a questo ragionamento. Io credo che un palleggiatore in campo ci voglia sempre. Volete alzare il muro? Solitamente si fa nei punteggi alti, non si fa mai dieci pari. Mettete sempre il palleggiatore, lo vedo fare nella maschile, lo vedo fare nella femminile, non funziona mai. Io credo che l'idea dell'Olanda è un pochino questa. Comunque avere sempre un palleggiatore in campo, in questo caso loro sono facilitati perché appunto può palleggiare anche seconda linea, in questo caso somma più qualità e riesce sempre comunque avere una situazione perché dispiace quando tutto funziona e viene alzato una palla alta con muro a tre dopo una difesa facile o ancora meglio c'è un battitore molto forte, la palla viene immediatamente di qua, col palleggiatore in campo avresti quattro soluzioni, ne hai una sola e magari neanche tanto buona. Io è una scelta, ho visto perdere i set importanti, credo che tutte le volte che mettete dentro un cambio a muro mettete sempre dentro un palleggiatore a meno che non abbiate la fortuna di avere Tajagher o di avere Nimir, di avere qualcuno che quando... Caterina Bosetti che ultimamente la vedo palleggiare meglio di tanti palleggiatori, quindi se avete questi talenti utilizzateli altrimenti mettete dentro un secondo palleggiatore. Altra domanda velocissima che siamo un po' in ritardo, ci chiedono se ci puoi dare proprio un contesto secco in cui fare la battuta lunga, cioè se c'è una situazione in cui ti viene subito in mente, lì la battuta lunga è un qualcosa di efficace. Ora la battuta lunga solitamente funziona tanto sul ricettore di prima linea, se è una squadra che gioca molto rapido. Vero è che con l'introduzione del palleggio e con l'utilizzo importante del bagger laterale si è tagliato molto il campo, questa è una delle mie battaglie per cui ho smesso di ricevere col bagger frontale, ma questa è una lunga storia, però sicuramente giocatori che attaccano con un passo tipo Hill, nel momento in cui deve andare a ricevere una palla sugli 8 metri attaccherà comunque rapido, ma sicuramente attaccherà diversamente e si può sovraccaricare per esempio il lavoro sull'assetto, sulla pipe. Se è una ricezione comoda sui 5 metri è chiaro che può giocare una qui con un passo solo e diventa molto difficile dopo la scelta di muro. E se durante una partita un attaccante sta giocando male in attacco e rice, ma batte molto bene, lo togli o lo lasci comunque in campo per il servizio? In linea di massima lo tolgo e lo tolgo anche in fretta. Poi sicuramente nella maschile la battuta è molto molto importante, lo sta diventando anche da noi nella femminile, però è anche vero che abbiamo visto chiunque, anche i migliori battitori della maschile che seguono tanto, l'errore è dietro l'angolo, quindi costruire un sistema in cui avvantaggiarsi per un paio di battute e magari perdere punti in altre situazioni, secondo me non paga tanto. Poi è vero che se conosciamo i nostri giocatori, io, la sorella di Isabel Hack, mi è entrata in tante partite, ha fatto 3 o 4 ex consecutivi e mi ha cambiato le partite, mi ha fatto vincere anche in Champions League. Quindi ci sono giocatori che tu sai che magari entrano e battono subito ad altissimo livello e quindi lo puoi sfruttare solo in quel fondamentale. Altrimenti, insomma, se uno riceve male, attacca male, bisogna che si sieda. Ci scrive anche Salvo che è d'accordo con te, anche perché oltre la qualità i migliori, i mediamenti, i palleggiatori sono bravi anche in difesa e in battuta, quindi mai toglieli in quei momenti. Questa è l'opinione di Salvo. François, ti salutiamo che siamo lunghissimi in ritardo e ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie a tutti. Ciao Luca, ciao Marco. Ciao François, ciao ragazzi. Ciao François. Ci diamo appuntamento domani, che visto che ce l'hanno chiesto domani lo diciamo. Domani andiamo a Perugia. Andiamo, siamo lì. Ciao ragazzi. Andiamo, va bene. Ciao. Bologna e Radio Volley presentano Voglia di Volley, a cura di Francesco Mazziotti e Marco Buosi. Ciao. Ciao.